Mese dopo mese gli affitti stanno facendo registrare dei fortissimi rialzi. Vi mostro questo dato. Affitti in rialzo in Italia. Affitto medio 800 euro, secondo trimestre 2019 più 2,8%, terzo trimestre 2019 più 3,8%. Ne parliamo con la nostra Silvia Dodi, legale di Feder Consumatori. Benvenuta. Gian Battista Baccarini, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari. Collegato da Milano c'è Nicola Cavalluzzo, consigliere della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Buongiorno, grazie per essere intervenuta. E Maura Mellino, buongiorno anche a loro. La cui brutta avventura con un falso agente immobiliare. Vi racconto subito dopo avervi mostrato questo dato sugli immobili in Italia, di proprietà il 77%, in affitto 22,6%. Allora, Maura, perché si è rivolta a noi di Mi Mandarei? Perché tra giugno e luglio ho subito una truffa immobiliare, in quanto cercavo un appartamento nella zona di Prato, un monolocale, un bilocale, che si aggirava tra i 500 e i 600 euro. Ho cercato anche sui siti online e lì ho purtroppo conosciuto questa consulente immobiliare. Che è successo? È successo che mi ha sottoposto in visione un appartamento a Prato e lì erano presenti anche gli ipotetici proprietari, al che mi diceva di recarmi il giorno dopo, presso uno studio legale, per firmare un compromesso, una proposta di affitto, e consegnare 600 euro per firmare. Lei cercava un appartamento di piccolo taglio? Sì, esatto. Più o meno con quello affitto? Si aggirano più o meno su quei prezzi. 5-600 euro. Sì, esattamente. Allora, è una proposta realistica, 600 euro, per un appartamento di piccolo taglio, Baccarini? Sì, a Prato, che è una città particolarmente attrattiva, perché è la città capoluogo provinciale più vicina a Firenze e ha dei valori di mercato piuttosto, diciamo, interessanti, e quindi un mercato in fermento, e quindi monolocale sui 450-500, il bilocale sui 6, anche 650-600. Quindi una proposta, diciamo, realistica. Che cosa succede? Che, Maura, come spesso succede a ognuno di noi, la prima cosa che fa è cercare su internet, e su internet le risponde un agente immobiliare. Le ha mostrato l'appartamento che aveva scelto? Sì, sì, certo. All'interno c'era anche l'ipotetico proprietario. Era un appartamento arredato. Allora, lei ce l'ha detto. Dopo aver visto l'appartamento, lei viene convocata da questo agente immobiliare per versare una caparra. Sì, in contanti. Lei li ha versati in contanti? Sì, in contanti. Questa è stata, Silvia, una ingenuità da parte di Maura? Devo dire di sì, purtroppo. Perché? Perché quando si fanno dei contratti, diciamo, dei preliminari, dei contratti di locazione, perché quello che lei ha fatto e che ha sottoscritto era una proposta di affitto. Quindi, di fatto, era ancora in quella fase preliminare alla sottoscrizione del contratto che sarebbe avvenuta successivamente tra Maura e i proprietari. Quindi, in quella fase preliminare, cosa succede? Il mediatore immobiliare ci aiuta a mettere in contatto le volontà tra la volontà del proponente e di chi vuole prendere in affitto l'appartamento. In quel caso, l'errore grosso era quello di versare contanti, perché non si fa così. Cioè, il mediatore serio, che cosa fa? Chiede, sì, una caparra per fermare, va benissimo, ma con un assegno intestato al proprietario, in modo che non ci possa essere il rischio che, troppo attratto da questo denaro, gli rimanga appiccicato le dita e si è infinitata. Come è successo alla nostra MAU. Un agente immobiliare può pretendere Baccarini il pagamento in contanti? Assolutamente no, non può pretenderlo. Anzi, nella modalità, diciamo, ordinaria e quella più lineare, esclude il contante. Come diceva Silvia Dodi, assolutamente la formula è un assegno bancario non trasferibile intestato al proprietario locatore, alla firma della proposta di locazione, con l'obbligo, l'impegno dell'agente immobiliare di consegnarlo al proprietario locatore al momento della sottoscrizione del contratto di locazione in caso ovviamente di accordo. Ecco, allora, che cosa succede? Che Maura versa la sua bella caparra e aspetta, come dire, l'arrivo di queste chiavi di casa che tardano ad arrivare, tardano finché arriva una telefonata in cui le si dice che il proprietario ci ha ripensato. Giusto, Maura? Sì, era indeciso su fittarla, insomma, e al che richiedo i miei soldi indietro, giustamente. Come avrebbe fatto chiunque. Però lei subito, prontamente, mi ha proposto un altro appartamento in visione, sempre a Prato. Sempre questa gente immobiliare. La stessa gente immobiliare, consulente immobiliare. Consulente immobiliare. Sì. Mi ha fatto vedere un altro appartamento, qui c'era anche l'ipotetica proprietaria con tanto di cagnolino, e mi chiedeva l'affiduzione o bancaria o assicurativa. E anche lì mi ha detto di conoscere una persona che mi avrebbe fatto risparmiare su questa assicurazione assicurativa, facendomi pagare la metà del valore di un canone mensile d'affitto. E lei, giustamente, allettata da questa proposta, ci ha pensato. Ingenualmente, non conoscendo la materia della fiduzione, mi sono affidata. Allora, anche in questo caso, una seconda raffiga di scuse, fino a quando la sedicente consulente immobiliare non si è resa uccell di bosco, cioè sparita. Maura probabilmente non ha ascoltato bene i consigli di mi manderai tre su queste cose, perché noi ripetiamo sempre, anche attraverso i nostri consulenti, di non fidarsi mai di chi sceglie o di chi chiede soldi in contatti. Però cercheremo, naturalmente, di aiutarla, come facciamo con tutti i telespettatori che si rivolgono al nostro programma. Una curiosità che non c'entra nulla. La casa poi l'ha trovata? Sì, per fortuna sì. Meno male, questo è importante. Allora, Baccarini, fermo restando che in ogni professione c'è una mela marcia, almeno una. Come vi difendete dai falsi agenti immobiliari e dai falsi consulenti immobili? Ma è molto importante affidarsi a un agente immobiliare professionale che sia regolarmente abilitato e iscritto presso la Camera di Commercio e quindi prevede tutta una serie di requisiti soggettivi, morali, generali, tecnico-professionale, abbia la polizia assicurativa e abbia un'adeguata... E questo come lo facciamo a scoprire? Questo perché la federazione ha attuato una modalità operativa che si chiama Una FIAIP, che è una modalità che prevede un controllo di tutta la documentazione, perché quando uno fa in affitto non c'è solo l'aspetto del canone di locazione, ma c'è anche e soprattutto l'aspetto condominiale, le dichiarazioni di conformità, l'attestato di prestazione energetica, tutta una serie di informazioni che l'agente immobiliare deve raccogliere prima per poi informare adeguatamente il contraente. Beh, questo è interessante. Allora, Silvia, visto che tu sei di rosso vestito, un po' quasi come un oracolo di me mandare a te, la vicenda di Maura cosa deve insegnarci? Allora, deve insegnarci prima di tutto a rivolgerci a qualcuno che abbia una solidità, cioè la persona che si qualifica come consulente immobiliare, che non sappiamo se è iscritta all'albo, che ci fa andare in un ufficio che non è il suo, già questa cosa, un filo dovrebbe insospettirci, che non ha una sede, che di fatto non ha una struttura per esercitare la sua professione, insomma, come tutti i professionisti, tutti gli agenti immobiliari che hanno magari società, negozi, uffici, e comunque mai pagare in contanti per delle caparre, perché se vogliamo fare un contratto preliminare di affitto, sappiamo che, a parte il mediatore a cui pagheremo la sua quota, e va bene, ma il nostro rapporto è con il proprietario, quindi l'assegno e i soldi non devono finire nelle mani sbagliate, assegno non trasferibile intestato alla proprietà, così almeno siamo sicuri. Se poi finiamo anche col proprietario con i venti, vabbè, allora. Dobbiamo solo andare in procura, fare la diffuscia. Allora, tenete a mente sempre i consigli della nostra Silvia Torri, sempre consigli saggi, ovviamente, le do tutta la nostra solidarietà, non so se riusciremo a risolvere questa storia, perché ha pagato in contanti, però le prometto che ce ne occuperemo. Grazie mille. Prezzi degli affitti in Italia, vediamo, approfittiamo di questa storia per fare un focus sugli affitti. In media Milano 20 euro metro quadrato, il più basso è Palermo, la mia città 6 euro a metro quadrato, Napoli 11 euro metri quadrati, 9 euro a Torino, 17 euro a Firenze, 14 euro metro quadrato a Roma. Per favorire, visto che molta gente invece di comprare preferisce affittare, sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali. Cavalluzzo, come si possono ottenere questi vantaggi fiscali dall'affitto di un appartamento di proprietà? Di nuovo, buongiorno. Buongiorno. Sicuramente esistono alcuni requisiti, quindi il proprietario deve essere una persona fisica e non deve agire in un ambito di una professione o nell'esercizio di impresa, quindi una persona fisica che possiede un appartamento. Il bene deve essere una unità abitativa, quindi qualunque tipo di unità classificata sotto la categoria A, ad eccezione della 10, che sono gli uffici. Altri requisiti, per quanto riguarda il bene, non ci sono. Deve mandare una raccomandata al conduttore in cui dichiara di volersi avvalere della cedolare secca, che è ovviamente una tassazione alternativa rispetto a quella ordinaria ed è di estremo favore perché a fronte di una IRPEF aliquota minimale del 23%, qui si aggiungono le addizionali, sia regionali che comunali, più l'imposta di registro sulla registrazione del contratto, più il bollo, si paga un'unica imposta sostitutiva in questo momento del 21%, che può essere ridotta al 10% in alcuni casi particolari. Allora, quali sono le principali differenze tra contratto a canone libero e contratto a canone concordato? Ecco, in questo, allora, ecco il perché della riduzione al 10%. Canone libero è il normale contratto, quello che probabilmente ha stipulato la nostra telespettatrice oggetto della truffa o che avrebbe voluto stipulare, è un canone che non ha particolari vincoli, sono quelli del Codice Civile per quanto riguarda la durata, le prove e quant'altro. Il canone invece concordato è un contratto particolare che è stato introdotto nel 1998 nel nostro ordinamento giuridico ed è un canone che viene concordato tra le organizzazioni della proprietà e l'organizzazione degli inquilini. Esiste una forchetta all'interno del quale può essere determinato il canone della singola unità abitativa e deve essere stipulato per una durata non inferiore a tre anni. Vi ricordo che il canone classico è 4 più 4, il canone invece concordato è un canone di tre anni rinnovabile per altri due e in caso di rinnovi successivi sempre biennale. Ci sono proprietà che non possono essere affittate a canone libero? Certo, normalmente le cosiddette abitazioni di pregio quindi quelle sottoposte a vincoli poi le unità turistiche o quelle con affitto temporaneo. Vediamo quali vantaggi offre la cedolare secca sugli affitti a canone libero. Aliquota del 10% per contratti a canone concordato l'aliquota del 21% per contratti d'affitto a canone libero. Agevolazioni fiscali si paga solo l'aliquota sostitutiva dell'IRPEF. Non si pagano addizionali in posta di bollo e di registro. Ecco allora vediamo alcuni esempi concreti. I guadagni del locatore. Vediamoli. Contratto a canone libero 4x4 che non è la macchina che ha la trazione posteriore è un contratto diverso. 4 anni più 4 significa da 650 euro al mese ricavo annuo di 7.800 euro per il locatore con regime IRPEF al 38% c'è un guadagno netto di quasi 5.000 euro 4.836 con cedolare secca al 21% un guadagno netto di 6.162 vediamo il secondo cartello sui guadagni del locatore eccolo qui contratto a canone concordato 3 più 2 cioè 3 anni più 2 da 580 euro al mese un ricavo annuo di quasi 7.000 euro per il locatore con un regime IRPEF al 38% un guadagno netto di 4.300 euro circa con cedolare secca al 10% un guadagno netto di 6.264 ma Silvia Dodi se sorge l'esigenza di interrompere la locazione? Dipende dipende chi lo fa innanzitutto è concordato negli accordi deve essere inserito nel contratto di locazione però di solito si inseriscono delle clausole per cui il conduttore può ricevere il contratto perché magari ha delle esigenze abitative diverse invece chi non può ricevere se non con i criteri della legge è il locatore quindi il locatore cosa può fare nei primi 4 anni non può recedere se non per i casi espressamente previsti dalla legge dando un preavviso di 6 mesi stessa cosa nell'anno successivo quindi il primo contratto se non ci sono motivi per cui deve andarci ad abitare lui o un familiare o altre esigenze espressamente previste il contratto dura 8 anni successivamente può dare la disdetta perché se vuole può anche rinegoziare il canone di locazione Baccarini si scelgono sempre più affitti invece che acquistare case perché? ma in realtà noi abbiamo un dato che è in controtendenza nel senso che sì gli affitti sicuramente consentono una maggiore flessibilità da parte dell'inquilino di poter col discorso del lavoro che è spesso uno cambia lavoro in tante città e quindi una maggiore flessibilità anche l'indeterminatezza dello stesso lavoro quindi c'è una questione sociale però di fatto grazie ai tassi di interesse che ai minimi storici in realtà c'è una ripresa forte del numero delle compravente non dei valori di mercato allora vediamo un po' di messaggi che arrivano al nostro canale whatsapp 345 3131994 per entrare in contatto con noi per mandarci messaggi o video messaggi come locatore per sottoscrivere un contratto a canone concordato Cavalluzzo può rispondere lei per favore devo essere iscritto a un'associazione dei proprietari di immobili oggi non è più una condizione sine qua non perché è sufficiente una volta sottoscritto il contratto farselo validare nelle associazioni e allegare l'attestazione alla copia del contratto e l'agenzia ha anche precisato che questa allegazione non è oggetto di imposta di registro allora vediamo il secondo messaggio che ci mandate voi telespettatori da casa risponde il nostro amico Baccarini la cedolare secca può anche essere applicata ai contratti d'affitto di immobili commerciali uffici capannoni allora agli uffici capannoni e laboratori artigianali no agli immobili commerciali intesi come categoria C1 negozi e botteghe sì fino a fine 2019 quello che noi chiediamo con la legge di bilancio è in realtà non solo che vengono prorogate ma che vengono resi strutturali ed estesi a tutto il terziario tu molti si pensano che magari conviene comprare sempre una casa piuttosto che spendere soldi per un affitto che non rientrano c'è ancora questo modo di pensare questa ma in realtà stanno aumentando l'investitore sta rientrando sta tornando sia italiano che straniero grazie alle locazioni brevi dette anche gergalmente turistiche ma in realtà le brevi sono dettate anche da persone che devono studenti lavoratori in trasferta persone che devono operarsi in determinate città ecco queste persone cercano anziché l'hotel l'albergo di andare una settimana due settimane tre settimane e lì è un grande vantaggio per i proprietari perché hanno una redditività certa definita perché si può applicare anche qui l'acidolare secca hanno una flessibilità in termini di vendibilità e hanno un rischio locativo di morosità praticamente azzerato grazie Baccarini grazie Cavalluzzo Maura noi la cerchiamo la tizia la cerchiamo la signora che le ha portato via quei 600 euro qui vedo la Dodi scatenatissima agguerrita agguerrita mi raccomando però non paghi più in contanti mai più mai più bravissima fate lo stesso anche voi grazie Silvia Dodi grazie a voi telespettatori per essere stati con noi grazie a tutti